salve a tutti sono gabriele ciampalini e vi voglio presentare la lenza superleggera che è un nome che ho dato a un particolare tipo di paternoster modificato per renderlo più leggero e funzionale secondo il mio punto di vista paternoster rig che ho preso in esame è quello scorrevole chiaramente come potete vedere e è la lenza assolutamente più sensibile e meno avvertita dal pesce però anche da sempre alcuni problemi di garbugli e chiaramente che chiaramente tendono a formarsi sulla madre lenza sul bracciolo con l'andare dei lanci e dell'usura della lenza anche perché si formano delle delle punti di memoria e dei delle piccole gobbe sulla lenza che ai lanci successivi attorcigliano attorno a sé tutta la struttura questo sembra una cosa che si possa risolvere tramite l'irrigidimento del bracciolo o della madre lenza insomma la tendenza è sempre stata questa io ho pensato invece di utilizzare il filo trecciato delle misure molto piccole dallo 0 10 allo 0 15 per risolvere proprio alla radice questo problema in quanto come potete vedere se io creo dei punti di memoria accicciolando e ingarbugliando tutto poi basta tirare e torna tutto alla perfezione questo mi ha consentito anche di risolvere in parte il problema del delle torsioni sul sul trave quindi non ho usato una girella né alcun tipo di perlina alleggerendo drasticamente tutta la struttura della della lenza queste sono le modifiche principali che ho apportato adesso vi spiego come si come si costruisce questo tipo particolare di paternoster e da cosa è costituito costituito chiaramente da un'asola piccola di collegamento con il terminale 30 cm di trecciato poi un nodo di blocco di blocco di scorrimento del bracciolo il bracciolo di 10 cm collegato al trave da una piccolissima asola e dal nodo poi fino all'asola di collegamento con la madre lenza che viene dal mulinello 80 cm di trecciato come costruiremo questo paternoster rig partiamo dall'asola di collegamento col terminale un'asola semplice di circa un centimetro di ampiezza poi lasciamo 30 cm di filo trecciato ed effettuiamo il nodo di stop del bracciolo effettuato semplicemente facendo un nodo sopra l'altro sopra l'altro anche 15 20 nodi a volte cercando sempre di aumentare il volume del nodo poi il bracciolo che è costituito da una piccola piccolissima asola che riusciremo ad eseguire correttamente solo aiutandosi nella costruzione con una magliettina ferma carta oppure altri accessori specifici per la pesca sportiva quindi aghini e cose simili dicevo lunghezza del bracciolo 10 cm poi un'asola non esageratamente piccola come la precedente e un boccino della misura più piccola che si riesce a trovare cui agganceremo il feeder ecco a questo punto lasceremo da questo nodo di vincolo e stop del terminale del bracciolo 80 cm per arrivare all'asola che collega questa lenza alla madre anche qua la possiamo effettuare con un'asola stavolta piuttosto ampia e dei nodi sovrapposti che ci permettono di arrestare di nuovo la corsa del bracciolo questa questa volta nella parte superiore come vedete il bracciolo non scavalca la l'asola qua congiungeremo quest'asola qua alla madre lenza con un moschettone e una girella anche doppia questo perché la massa e il peso che può avere un impianto di questo tipo ovvero sia girella più moschettone va a porsi rispetto all'inizio del terminale all'inizio del terminale esattamente a 110 cm più un finale di circa 60 cm 40 ma anche di più volendo abbiamo una distanza davvero ragguardevole dei primi pesi che il pesce può avvertire per cui possiamo metterli tranquillamente ma nella fase diciamo nelle posizioni più critiche quelle più vicino al pesce ovvero sia il punto di collegamento con il terminale il nodo di arresto la parte più mobile che si muove di più del bracciolo non abbiamo niente non abbiamo praticamente alcun peso eppure la scorrevolezza è davvero ragguardevole di tutto l'insieme grazie alle proprietà del trecciato come vedete in questi piccoli movimenti si vede che tutto scorre fluidamente e spero di farvi capire che non si avverte proprio alcun peso anche perché appunto non c'è niente montato sopra la resistenza alle torsioni ce l'ha già il trecciato di suo perché ha scarsa memoria e riesce comunque a concedere qualcosa senza anche dover appesantire tutto con la girella noi comunque metteremo delle girelle molto a monte come vi ho detto all'asola sopra l'asola di collegamento con la madre e quindi avremo comunque una buona opposizione alle torsioni perché il tutto verrà fatto girare dalle girelle sopra ma non avremo alcun peso ripeto nel momento più critico e quello più vicino al pesce non solo ma un'altra cosa importante è la morbidezza di tutto l'insieme che davvero sarà spesso e volentieri più morbido e inavvertibile la struttura della lenza rispetto anche al terminale spesso e volentieri andiamo a collegarci un terminale che risulta anche più rigido della montatura questo è una cosa molto singolare ma ci aiuta molto con i pesci difficili in quanto questa lenza è studiata proprio per la pesca difficile di brem, cavedani, carassi anche in situazioni molto complesse come sono quelle invernali la lenza l'ho testata a lunghe distanze l'ho testata in fiume, l'ho testata in lago e si comporta molto bene in quanto non ho mai dovuto buttare niente per groviglio come succede spesso ai paternoster righe costruiti sulla lenza di nylon spero di avervi fatto cosa gradita un saluto da Gabriele